Ciao a tutti ragazzi, sono Andreshirani e con questo video andremo a imparare come ritoccare un naso troppo grande, come in questo caso questa ragazza che ha un naso abbastanza grosso e andremo a vedere una tecnica per rimpicciolirlo e comunque farlo più bello da vedere insomma e premetto che non ho niente, nel senso non dico che è una brutta ragazza, quindi ho solo preso questo esempio per appunto fare il mio tutorial, non vorrei critiche eccetera quindi perdonatemi l'antissimo insomma allora, come prima cosa abbiamo il nostro livello, ci clicchiamo sopra e lo trasciniamo su questo iconcina qua per duplicarlo, ci farà sfondo copia una volta fatto duplicato, vedete che è selezionato, andiamo a selezionare questo strumento qua che sarebbe lo strumento lazzo, tasto destro se non lo vedete, vedete questo qua, strumento lazzo una volta selezionato, zoomiamo dentro l'immagine, io utilizzo altre rotelle per zoomare dentro e andiamo a selezionare appunto la parte del naso che ci serve, quindi clicchiamo e trasciniamo selezionando attorno al naso, attentamente, molliamo, ecco qua che ci creerà la nostra selezione abbastanza grossolana intorno al naso, quello che dobbiamo fare ora è andare su filtro, no scherzavo e andare su selezione, modifica e andare su sfuma, quindi clicchiamo su sfuma e qua dobbiamo andare a regolare il raggio di sfumatura, quindi andrò a fare un raggio di sfumatura di 8 pixel poi dipende dalla vostra immagine, io metto 8 pixel insomma, quindi clicco ok, una volta fatto questo, sulla tastiera clicco CTRL J e ci creerà livello 1, che sarebbe il naso, solo il naso ora, una volta creato questo livello 1, come ho detto CTRL J, lo selezioniamo e andiamo su filtro e fluidifica, eccolo qua, clicchiamo, perfetto, come vedete ora abbiamo solo il nostro naso e se volete vedere lo sfondo, cliccate qua sopra su mostra sfondo, vedete, qua c'è l'opacità, per vedere, cioè per mostrare lo sfondo, insomma, quanto volete vederlo, eccetera io comunque non utilizzerò lo sfondo, quindi disattivo il mostra sfondo e mi concentrerò sul naso, ora basta zoomare con questo strumento qua, ci zoomiamo dentro, ecco qua, e andiamo ad utilizzare questo strumento qua all'inizio, è lo strumento altera avanti, quindi ci clicco sopra e andiamo a vedere un po' come è settato, diciamo, come sono le opzioni dello strumento, ovviamente qua c'è modalità avanzata, se lo disattiviamo, troviamo solo questo, se ci clicchiamo ci troviamo tutti i comandi, quindi andiamo a vedere su dimensione pennello, abbiamo un 60, vediamo com'è grande, si va bene, un 60, densità pennello un 50, pressione pennello un 100, voi settateli come li ho settati io, una volta fatto questo, cerchiamo appunto di modellare il naso e rimpicciolirlo un pochino, quindi clicco qua e trascino un po' verso qua, in questo modo, da rimpicciolirlo un po', ecco qua, non esageriamo troppo, perché sennò non è molto realistico, quindi cerchiamo di dargli una forma più carina, più sexy, allora, ok, perfetto, una volta fatto questo, dato un po' alla forma, diciamo, di questo naso, andiamo un po' a rimpicciolirlo, quindi torniamo qua e andiamo a selezionare lo strumento piega, quindi clicchiamo questo strumento, andiamo sempre sull'opzione dello strumento e qua vediamo un dimensione pennello 60, un densità pennello 50 e un velocità pennello 80, una volta fatto questo, andiamo sul nostro naso e incominciamo a dare qualche click per rimpicciolirlo, ovviamente attenti a non esagerare, perché sennò il trucco si vede qua un po' di più, perfetto, io ora lascio una cosa del genere, perché appunto sto facendo un tutorial e non vorrei perderci troppo tempo, quindi una volta fatto questo, magari prendiamo la lente, ci clicchiamo sopra, tasto destro e mettiamo adatta la vista, ecco qua, così vediamo un po' da distante come è venuto e se magari l'abbiamo fatto un po' storto ci zoomiamo di nuovo dentro e selezionando gli strumenti che vi ho appena fatto vedere possiamo andare a regolarlo un attimo meglio, quindi andiamo a vedere un po' in questo modo, ok, ora io clicco il tasto ok, qui in cima e vediamo che abbiamo già modificato il nostro naso, proviamo a zoomare in modo che lo vediamo tutto e come vedete abbiamo riparato il suo naso, aggiustandolo un po' meglio ma come vedete ovviamente io l'ho fatto abbastanza male, quindi voi metteteci il tempo, metteteci la pazienza perché così si lavora e così otterrete risultati migliori, quindi, niente, come vi faccio vedere di nuovo l'anteprima così, ecco qua, ecco qua, vedete, così, cosa, così, cosa, ovviamente se vedete qualche errore sbagliato che non vi va, cioè non vi piace molto, sempre con il livello 1 selezionato basta andare su filtro e continuare, andare su fluidifica e fare la stessa storia, modificarlo un attimo meglio, ecco qua, ecco qua, modificarlo un attimo meglio per appunto fare ok e niente, è così insomma, sì, adesso l'ho peggiorato sinceramente, il tutorial è finito, mettete mi piace, commentate, quello che volete, c'è la pagina facebook sempre in descrizione e niente, qua vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ciao! Ciao! Ciao!